no ma aspetta ho sbagliato il bilanciamento del bianco ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi parleremo di bilanciamento del bianco e di temperatura colore e capiremo come impostarlo bene in macchina per evitare video bluastri o foto verdognole che non ci piacciono prima di andare avanti se video come questi vi interessano lasciatemi un like e iscrivetevi al canale così potrò portarvene altri partiamo dal colore della luce ogni fonte luminosa ad esempio una candela accesa emette una luce di un determinato colore e questo colore si misura con la temperatura colore in gradi kelvin una candela accesa emette una luce calda cioè tendente al giallo arancione e ha una temperatura di colore di circa 1500-2000 gradi kelvin un esempio di luce fredda e quindi più tendente all'azzurro è quella del cielo limpido a mezzogiorno che è di circa 5000-2000 gradi kelvin quindi a prescindere dalla luce che abbiamo luce calda, luce fredda, temperatura di colore bassa, alta avremo che nelle nostre immagini e nei nostri video ci sarà una dominante di colore questa dominante di colore che può essere fredda, calda ma vedremo anche che potrà essere verde, magenta va corretta con il cosiddetto bilanciamento del bianco il bilanciamento del bianco viene gestito dalle nostre macchine fotografiche, dalle nostre videocamere con tre modalità la prima modalità di bilanciamento del bianco è quello automatico nelle fotocamere Canon si chiama AVB e in questo caso se la macchina rileva ad esempio che nell'immagine c'è troppo blu aggiungerà del giallo per andare a bilanciare il colore, a fare appunto una correzione del colore in modo che non ci siano dominanti nella nostra immagine questa modalità secondo me è particolarmente utile in fotografia soprattutto quando non scattiamo in ambienti con luce controllata ma scattiamo non so all'aperto infatti la macchina farà una correzione automatica del colore per noi e poi saremmo noi se non ci piace questa sua valutazione ad andare a modificare la temperatura e il colore in post produzione quindi almeno che non vogliate girare un vlog in cui gli aspetti tecnici del bilanciamento del bianco sono meno importanti del racconto e della storia vi consiglio quando girate i video di mettere il bilanciamento del bianco non automatico ma predefinito o personalizzato di cui parleremo a breve oltre al bilanciamento del bianco automatico la nostra macchina gestisce anche dei valori predefiniti ad esempio luce diurna, luce al tungsteno quindi ci sono dei preset che noi possiamo scegliere in base alle condizioni di luce che incontriamo alcune macchine vi permettono anche di scegliere esattamente la temperatura di colore che volete bilanciare quindi invece di scegliere il preset luce diurna 5200 gradi kelvin potete magari impostare la vostra temperatura di colore di 5000 gradi kelvin il bilanciamento del bianco predefinito a differenza di quello automatico non cambia di volta in volta e quindi lo consiglio assolutamente per i video e per le fotografie che scattiamo in ambienti con luce controllata ad esempio in studio il terzo tipo di bilanciamento del bianco che possiamo impostare sulla nostra macchina è quello personalizzato e funziona in questo modo noi dobbiamo scattare con inquadratura piena una foto a questo cartoncino cartoncino di grigio neutro chiamato anche color checker che deve essere illuminato con la luce che andrà ad illuminare anche noi stessi ad esempio se giriamo un video oppure la luce che andrà ad illuminare il soggetto a cui scattiamo una foto selezionando la foto che abbiamo scattato a questo cartoncino nel bilanciamento del bianco personalizzato la macchina riuscirà a correggere eventuali dominanti del colore della luce e quindi a restituire un bilanciamento del bianco corretto il bilanciamento del bianco personalizzato da un punto di vista tecnico è probabilmente il bilanciamento più accurato che possiamo selezionare in macchina però non è detto che sia sempre l'opzione più adatta alle nostre esigenze comunque diciamo che per chi vuole stare tranquillo di avere un bilanciamento del bianco corretto si può tenere nell'inquadratura appunto magari all'inizio alla fine del video o in una foto il color checker così che in post produzione volendo con il selettore automatico il bilanciamento del bianco noi andiamo a cliccare in mezzo al cartoncino e c'è giusta automaticamente il bilanciamento del bianco anche sia Lightroom oppure magari Premiere per i video riusciamo a gestire questo aspetto tecnico appunto della correzione del colore per tutti e tre i casi che abbiamo analizzato di bilanciamento del bianco automatico predefinito e personalizzato se vediamo che la correzione del colore ancora non ci soddisfa possiamo andarla a modificare sia in post produzione ovviamente ma anche direttamente in macchina andando ad aggiungere del blu, del giallo, del verde e del magenta in base alle nostre esigenze un corretto bilanciamento del bianco nelle foto e nei video è sicuramente importante perché rende diciamo i colori più fedeli alla realtà però allo stesso tempo secondo me non fissatevi troppo su questo aspetto della fotografia o del video perché altrimenti magari rischiate di perdervi troppo in tecnicismi e non concentrarvi sulla parte più creativa della fotografia o del video oltretutto un bilanciamento del bianco corretto non è sempre visivamente gradevole in foto o in video ad esempio nella fotografia di ritratto spesso e volentieri si preferisce dare un colore un po' più caldo all'immagine piuttosto che un colore un po' più freddo poi dipende sempre da ciò che vogliamo esprimere dalla situazione ok ragazzi vi ringrazio della vostra compagnia vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti lasciatemi un like per sostenermi e ci vediamo al prossimo video ciao ciao